Allora, come abbiamo già detto, abbiamo il piacere di avere Riccardo che è un ex giocatore del Negrà che rispecchia un po' il vostro percorso adesso, sperando che sia come il suo, ma ha cominciato anche lui qui e coadjuvato da questo ragazzo che è stato un mio allievo anni fa che poi ha preso anche lui la carriera di preparatore che l'ha proprio presente qua oggi abbiamo avuto fatto incontro con un ragazzo che sta facendo una posizione un allenatore che si fa vedere altre cose fatte non sempre dal solito allenatore ma da un altro allenatore di cui di conoscenza ne ha ecco lui è Francesco Castiglione, questo è Riccardo Tosi, l'avete conosciuto adesso daremo un po' le mani di Francesco insieme e vi faremo fare qualcosina in abbinamento con Riccardo che vi farà vedere anche lui come poterlo fare meglio, come migliorarsi o altre cose va bene, ok, può cominciare Francesco, cosa presenti agli ragazzi? facciamo qualche esercizio di base sulla presa e sulla rialzata soprattutto per velocizzare un po' la rialzata esercizi basici, semplici vediamo un po' come vanno i ragazzi benissimo, buon lavoro buon lavoro dopo me la lecce lì la palla cambio ecco ecco Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.